Uff, 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 uff Che stai facendo? Che stai facendo? Mi scadavo la gola Ancora? E la testa, ok Chissà quanti calcoli elettronici sono in quella testa Ti ho detto che dovevo editare poco, fallito Mannaggia a te Ma cosa vuoi ho detto calcoli elettronici? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nono episodio di Powerplay direi Vero Diego me lo confermi signor calcolatore umano Ok, siamo con Muay Diego, ciao ragazzi Ciao, bello Ragazzi non fatemene pentire Io sto controllando costantemente i loro profili Instagram Stanno crescendo ma poco Seguiteli, primi link in descrizione Mi raccomando non ci vuole nulla Come seguite me seguite anche loro Instagram easy Oggi la mappa è questa È un po' fastidiosa per il meta Secondo me è un po' tosta da giocare D'altronde ci affidiamo al mio colt Vero ragazzi che vi affidate al mio colt? Vero cari cari Mi raccomando Mi sono ricordato che dovrei cambiarsi la power Dato che è una mappa comunque abbastanza lunga nel mio lane E nulla Noi andiamo E poi a fine del video Come avete letto dal titolo Giocheremo una mappa Vi faccio vedere dopo Quanto sei bugiardo Hai controllato i nostri profili Instagram Non è vero mai Sì sì Te lo giuro Ok ragazzi Oddio Triplo brawler viola È bellissimo da vedere Te lo giuro È anche buono comunque Ho visto tre brawler viola a conto Ho detto Wow quanto sono belli Maronna mia Ok Tara ragazzi al centro Quindi Questi qua sono davvero forti Usano la tattica di Del vecchio SK Nella World Cup Era Tara mid max lane Tipo Non so se ve la ricordate Comunque hanno due gemme Hanno due gemme ragazzi Voi sapete che significa Che non possiamo lasciarne più Geniali Oppure gli si rubano Ragazzi sapete che secondo me Comunque Vado a giocare la velocità Con Mr. Power Perché boh Non mi convince qua il range Sì secondo me è meglio Non mi ci trovo Porco due Bravo No Gli schizzi Gli schizzi ragazzi Non quegli schizzi Mi dissocio nel caso Ok Gli spruzzi Gli spruzzi Neanche quei Ne infatti Vabbè basta Sta zitto ragazzi Ok abbiamo capito Dove star zitto Ok Preso una Una basta Una basta Una Una Porco due Una ragazzi Prendi 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 al volo Prendi Non abbiamo tempo No Non esiste il tempo Sì sì Siamo ancora Safe Ma speriamo Non spinnare Anzi sì Che ne dico di non spinnare Dobbiamo spinnare Ho ragione Ho ragione ragazzi Ma ero dei bot Basta E vi confermo ragazzi Che Diego Non mi ricordo Quando lo aiutai con Barley Vabbè sicuro spinnava Quasi ogni partita Mua Testimone Te lo giuro me lo ricordo Me lo ricordo Quindi anche Diego ragazzi Finalmente sia riuscito A farlo spinnare Questi qua Quanto stavano Vabbè Disagiati Poveri disagiati Vabbè andiamo con la seconda Ok ragazzi Abbiamo contro un Mortis Argentato Speriamo sia bianchi Perché sapete che sarebbe Una Ezwin 33 66 Probabilmente Neanche 33 Però Vediamo un pochino Sapete che Voglio bene a bianchi Dai ironia Ironia In realtà non li voglio bene Lo odio Ok Si è recuperato Tutta la vita Sì Infatti Ho guardi l'orso Comunque E qua devo un attimo Giocarmela safe Perché Mortis L'ho battuto una volta Ma se lui se la gioca bene La seconda Mi fotte Quindi diciamo Boom Faccio fuori la cosa Dietro 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 Mua Dietro 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 Sono tante Sono troppe Eh sì sì Sono troppe Porco Due Colpa di Mua Colpa di chi se no Chi è che deve prendere Gemini al nostro team Proprio Mua Mortis Mid torna indietro Mannaggia a te Eh sì Ok qua Ne hanno quattro È finita Oddio Cosa ho fatto Stai zitto Ok Ok Dovevi lasciarmela Dai va bene va bene Ma io l'ho detto che cario Cioè io vi cario E voi pensate a chi ho Se ho preso le gemme Ma state scherzando Dovete morire Ma sei tu quello che muori Hai avuto le gemme Ragazzi Troppo forte con Colt Troppo Cioè io cario loro E loro pensano a dire Perché hai preso le gemme Ma raga Ma zio che vengo a Livorno E vengo a Napoli Palermo Dove abiti mu Dio buono Ok Neanche l'ultima ragazzi Ok Terza partita Abbiamo un altro mortiscontro D'altronde loro non hanno Un mid grabber Quindi Mi raccomando Mu Mi aspetto che te le prendi Tutte le gemme Inizio a laggare Molto male Ho rischiato di creparci E mua Dai vabbè Meglio che gioca safe Piuttosto che prende le gemme Creparci E c'erano due lane Cazzarola ragazzi Vi siete messi in linea Contro Vai tu contro il mortis Comunque Io lo fitto solo Ho anche loro solo Raga questi qua erano randomini Sì Eh dobbiamo killare a Lems Abbiamo tempo Non ci credo Quimi Vai killare a Lems Make the Lems Porco 2 Ok morto Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Mortis Screpaci Dai 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 No ragazzi No Non è più Non è più stellare Dio Vono Dove la sei Contro tirando mini Contro tirando mini Sì Eh ma no 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 Sponono 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 No Mi ha spammato F Spammi di F per favore Grazie Ok ragazzi dopo aver titolato per un po' Ci risiamo E giochiamo questa mappa qui Ragazzi una mappa assurda Non l'avevo mai vista prima È un labirinto Perché maize appunto significa labirinto in inglese Un labirinto per andare a prendere le gemme È la cosa più pallosa È che ogni volta che ci muori Devi rifarlo da capo Infatti faremo solo una partita Non mi va di farne di più E io metto dynamite con i saltini In modo da fottere un po' gli avversari Ok È partita subito No dall'altro No al contrario No Non lo sopporto Io ci creperò gli stunts tipo vero? Sì Io ci crepo instant Eh non mi va a prendere le gemme Dare il pure E io pure Oh shit Ma che cavolo No ragazzi io le odio le mappe della community Non sono capaci di giocarle Ve lo giuro Ma perché me l'ha detto Mua Pazzisco Mua Ma sei un idiota Porco due Ma che vuole? Dai Diego c'è il brawler più forte del gioco No per favore stai zitto Vai Vai ragazzi Vai che vi cario male Ma cosa carri? Mi son fatto la kill Mi distruggono C'è Daryl qua? Che fatica a vivere Daryl mi salta E qua è qua davanti Daryl No 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 Vai Vai Un hit Non ha colpi Scappa giù Scappa giù Scappa giù E ne manca una La prendi io La prendi io La prendi io No Diego Nani ha la ulti Che vuoi? Recupera vita Diego scappa Diego scappa Si gode Si gode Diego arriva a Daryl No no Pazzisco No pazzisco Diego te l'ho chiuso Ti meno Diego Ti meno E degli stupidi Noi? Chi ci ha greppato con tutte le cerni L'angangente Dov'è? Dimmi dov'è? Dimmi dov'è? Dimmi dov'è Indicazioni È un labirinto Indicazioni figlio di No sono scarsissimi L'abbia perso contro Pablo Undici Che abbiamo perso contro Un messicano Vi rendete conto? E guarda prima contro Che abbiamo perso tre punti Rolae No Max Karma Ma Karma pure italiano Che figura di merda Ragazzi per favore Lasciate like per supporto Iscrivetevi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao raga